Chef sortino in cuoco ma non troppo Oggi ragazzuari vi preparo delle tazzine di Nutella Per la ricetta la potete trovare nella sezione dolci sul mio sito cuocomanointroppo.it Partiamo allora per prima cosa vado a spaccare 3 o 4 noci Ho preso la Nutella, l'ho fatta sciogliere proprio giusto un minutino nel fuoco a microonde Lì vado ad inserire le nostre noci E vado a mescolare con il cucchiaino il tutto Abbiamo qua le nostre tazzine fatte in cialda E le vado a riempire con la nostra Nutella Spolveratina di cocco Premo una noce Il nostro bicchierino è pronto Ora lo vado a fare con tutti gli altri e poi li vado a mettere nel frigo per circa un'orettina Abbiamo qua le nostre tazzine fatte in cialda